Amiche ed amici di Arsenico, il momento è greve come inchianti. Anche se siamo al ristorante La Focce di Castiglione Fiorentino, abbiamo accanto a noi un uomo che si è diplomato a giugno, il ragionier Serboli, anche un po' tossicodipendente come avete sentito, che stasera affronterà un tema politico. Perché il ragionier Serboli ha capito qual è la fonte della violenza di oggi e qual è la soluzione alla violenza, alla fonte della violenza di oggi? Secondo me la fonte della violenza di oggi, che siamo arrivati nell'arco di sette anni di esistenza di questo nuovo millennio, parte proprio dall'inizio di questo millennio. Se io mi volto indietro, mi viene da ridere ripensando a quando noi dovevamo fare il passaggio dal 1999 entravamo nel 2000, un secolo che doveva essere visto da tutti come un secolo di cambiamento, di innovazione e di progresso, ma tutto questo doveva essere nel meglio e non nel peggio come poi è successo. E questo anche la mia nonna lo poteva dire, la gente si aspetta delle risposte. Sì, sì, però un attimo, perché devo arrivare un attimo al discorso, se no dopo... Scusi se l'ho interrotta, mi sembrava un discorso da lobotomizzato, mi deve perdonare. Praticamente, data io penso fondamentale che ha colpito tutti sia 11 settembre 2001, dall'attacco alle torri gemelle, nel mondo intero poi, è stato tutto un susseguirsi di disgrazie, cattive notizie che arrivavano da tutto il mondo e sono successe cose che prima ci sembravano praticamente impossibili. Oggi siamo arrivati in soli sette anni di quello che dovrebbe essere un millennio che dovrebbe portare avanti l'umanità. In soli sette anni di questo siamo già arrivati al limite, cioè siamo quasi già arrivati... Anche io comunque sono al limite, perché sto sentendo questa fila di banalità e vorrei arrivare. La violenza negli stagli che parte dall'11 settembre, non ho capito. Cosa succede dopo tutte le cose che noi abbiamo visto? Che nell'uomo è chiaro che può abbracciare tranquillamente la follia, ma la follia che si è radicata all'interno degli stagli, ad esempio, è la follia delle popolazioni. Non è un discorso, diciamo così, dello sport, un discorso agonistico, ma è un discorso prettamente politico che poggia proprio le basi sulla politica, sull'assetto di un mondo che non va. La gente si deve ribellare a questo senso di distruzione, di devastazione che c'è nel mondo e si sfoga distruggendo, picchiando, uccidendo le forze di polizia che dovrebbero essere i garanti appunto della tutela, della pace, della tranquillità che dovrebbero regnare nelle varie metropoli. Quindi se dall'altra parte c'è qualcuno che è convinto che quello che è accaduto a Catania sia spinto dalla passione violenta che qualcuno può avere per il calcio è un illuso, perché quello che è accaduto a Catania è spinto da un senso di follia radicato nelle menti delle persone che adesso non ce la fanno più a sostenere l'attuale situazione dell'Italia e di tutto il mondo, ma che veramente devono sprigionare questo loro senso di violenza che alberga nelle loro menti, nei loro corpi. È un veleno che... Mi trova una soluzione per favore, perché mi sta prendendo sonno. No, no. Può trovare una soluzione, mi dispiace per la serietà dell'argomento. No, la soluzione... Pensavo che lei volesse dire qualcosa di comprensibile. La soluzione, se riuscissi a trovarla, potrebbe essere... no, mi scusi, no, potrei essere dichiarato uno dei più grandi geni della storia, a trovare una soluzione a tutto questo. È un miracolo. La mia è soltanto una speranza che io mi faccio e se io posso mandare un messaggio a loro... Se io chiamavo la mia nonna, dicevo le stesse cose. No, però io... Mangiamo un messaggio a Giove. Sì, è un messaggio che voglia... Giovani. Giovani. No, giovani, giovane. Giovani. Si rivolga al giovane. Giovani, non fossilizzarti nella... Non guardi me, guardi il giovane. Giovani, non fossilizzarti nelle cose, diciamo così, strettamente materiali della vita, ma devi cercare di cogliere da ogni attimo, anche dalla cosa più semplice, la ricchezza di tutto questo, perché poi la ricchezza delle cose più semplici è quello che poi può mandare avanti te e tutta la tua generazione. Noi dobbiamo sperare... In cosa? No, noi dobbiamo sperare innanzitutto di continuare a sopravvivere, perché questo è sopravvivenza. in un mondo che esalta gli evasori fiscali, che butta fuori dalla galera dopo, per gli indulti la gente. Ma è questa la follia. Ma cosa deve credere uno? Cioè, ma ancora vi meravigliate la violenza nell'istate? No, ma io non mi meraviglio... Ma lei è l'ingrazi che ne scatta la violenza a me che dà le labbrate, dove finire delle cazzate... No, ma io non mi meraviglio della violenza nell'istate di queste cose, è questo che stavo dicendo fino ad ora. Se si vive in un mondo dove si butta fuori con gli indulti, si perdona anche un criminal. E quindi il senso di ribellione che è radicato all'interno delle menti, delle persone, è chiaro che esploda. Io personalmente sento odore di rivoluzione e state pur certi, ma state pur certi, che prima che nell'arco di dieci anni accadrà qualcosa che sarà decisivo. per quanto grave, per quante altre cose potrà far succedere, distruzione, devastazione, morti, potrà accadere qualcosa di veramente cruento. Quindi aspettatevelo nell'arco dei prossimi dieci anni se le cose continueranno ad andare avanti così. Nel frattempo si può andare avanti quel programma? È l'uomo che deve rinascere, non la politica. L'uomo deve rinascere, l'uomo si deve ricreare. Questa è una bella frase. L'uomo deve rinascere. Si deve ricreare. Mi auguro che rinasca minimamente più intelligente di lei.